Ho scelto Rossini TV perché ero in un momento critico della mia attività, mi sono trasferito da Via Giolitti alla zona mare della Repubblica e ho trovato in loro un ottimo strumento per veicolare l'informazione a quanti più clienti possibili, vecchi e si spera anche tanti nuovi. Confido di investire nuovamente in questa realtà perché il messaggio arriva, perché molta gente locale di Pesaro la segue e quindi sicuramente sarò di nuovo tra i vostri inserzionisti a breve. Buono da matti!